E' diventato l'appuntamento che segna l'inizio dell'anno pastorale per il Centro Carità e Salute della Diocesi di Arezzo Cortona a Sansepolcro. E' l'Assemblea delle Caritas Parrocchiali. L'evento si terrà quest'anno a Sansepolcro, sabato 17 novembre a partire dalle 9.30, nei locali del Vescovado. Nell'occasione, accanto all'Arcivescovo Riccardo Fontane e a Don Giuliano Francioli, interverrà Giovanni Tondo, direttore Caritas della Diocesi di Siena, sul tema come intensificare la testimonianza della carità nell'anno della fede, a seguire la messa nella concattedrale Biturgenze. All'appuntamento sono invitati parroci, diaconi, religiosi e laici impegnati delle Caritas parrocchiali. Proprio a Sansepolcro sta per partire l'esperienza della prima Caritas interparrocchiale cittadina. Il progetto, alla quale l'equipe diocesana, i volontari e i parroci tiberini stanno lavorando ormai da mesi, vedrà la luce entro gennaio 2013. La sede del nuovo Centro Caritas sorgerà nei locali di Palazzo Graziani, in pieno centro storico. L'intento è che questa realtà diventi un punto di riferimento per le altre Caritas della zona e che si crei una rete con le associazioni e i movimenti della Valtiverina, storicamente impegnate nella difesa dei più bisognosi. Al centro dell'anno della Caritas diocesana ci sarà la formazione, un tema che verrà declinato su vari livelli. L'obiettivo è quello di far passare il messaggio che la Caritas non è una semplice associazione. La Caritas è qualcosa di più, è la Chiesa stessa. Per la precisione l'organismo pastorale che si è dato alla Chiesa italiana, una realtà deputata alla testimonianza della carità dell'intera comunità cristiana e che si impegna a raggiungere i propri obiettivi attraverso la sua azione pedagogica, la pedagogia dei fatti, in uno stile educativo e di relazione con la persona, chiunque essa sia.